Ciao a tutti, questa volta il video Wish lo faccio in questo modo Allora, ho diverse cose da farvi vedere In questa busta c'è un adesivo che io ho scelto ancora in gennaio Quindi sono tutte cose comprate abbastanza tempo fa E l'adesivo è questo qua È quello di Simon's Cat, quindi il gatto Simon Trovate su Youtube anche tutti i video di Simon's Cat E questo qua va attaccato alla macchina Praticamente questo va attaccato sul serbatoio Dove c'è lo sportellino del serbatoio Dove si fa benzina praticamente E questo qua va attaccato di fianco Quindi l'ho preso proprio per la mia macchina Allora, vediamo Voglio approfittare a farvi vedere anche da vicino le cose Dunque, mi sono arrivate queste... Come si chiamano? Oh mamma, non mi ricordo più come si chiamano queste cose Come si chiamano questi aggigi qua? Va bene Insomma, mi sono arrivate questi E li volevo attaccare nella nuova agenda Così se mi serve mettere un segna a posto da qualche parte Comunque vedete che hanno anche l'annellino qua sopra Quindi possono essere attaccate anche Con un nastrino Ci si può attaccare un nastrino Eccetera eccetera Ho le mani sporche e non so il perché Va bene E quindi mi sono arrivate queste E... Sì, sono degli strumenti Allora, qui c'è questo Qui c'è la nota musicale Qui c'è la chitarra Nota musicale E qui c'è un... Penso sia un violoncello Qualcosa del genere E qui c'è la tromba Non li ho ancora aperti Perché appunto Aspettavo di fare il video E... Queste qua sarebbero le altre fantasie A me purtroppo sono arrivate queste qua E devo dire che non mi piacciono particolarmente Queste qua con le cose... Le cose musicali Gli strumenti musicali Però, oh, mi sono capitati questi Vi arrivano casualmente Per cui quello che arriva, arriva Comunque ne arrivano quattro alla volta E anche queste mi pare le ho pagate Oddio Queste sono in dubbio Se un euro o tre euro Perché sono abbastanza anche Solo di metallo E quindi Sono belle Sono in metallo Molto resistente Sì, è abbastanza duro Ok E niente Queste qua Poi, tempo fa Avevo acquistato anche questi Sono dei... Come dei cabochon E sono, penso, di plastica Voglio farvi vedere uno Magari da vicino Sì, sono di plastica Avviciniamo un pochino Facciamo lo zoom Che non si vede molto bene Ok E questo è tipo un cabochon Il retro è piatto e liscio Ed è fatto così Questi qua Si possono utilizzare per decorare Magari delle scatole O qualcosa per Che so, delle bomboniere Qualcosina del genere Io li ho presi perché mi piacevano molto Sono luminosi E anche questi qua Dovrei averle pagati un euro Altre cosine simili Sono questi cuori Sono carini Ne tiro fuori subito uno Ad esempio Questo qui è... Aspettate che mettiamo a fuoco Questo qui è nero Con tutti questi riflessi blu Verde e giallo Molto carino Il retro di questi cuori è liscio Liscio e lucido E molto carino Guardate che effetti Sono praticamente mini borchette E fanno proprio questo effetto Molto bello Questi cuori qua Anche vale il discorso di prima Praticamente possono essere usati Per decorare un qualcosa Sono di diversi colori Ma ce ne sono solo due fucsia Tre Quattro fucsia Insomma Il fucsia ne mettono sempre poco Di fucsia Vabbè Comunque sono molto carini Molto colorati Veramente belli E anche questi sono di plastica Anche questi devono essere costati Un euro Ho comprato anche questo pacco Di tutti questi nastrini Per le unghie Sono quelli che si utilizzano Sia come decorazione Appunto per le unghie Ma anche come stencil Diciamo che dove viene messo Questo adesivo Praticamente lo smalto Non andrà Ad attaccare sull'unghia Poi viene tolto Questo adesivo E rimane L'unghia senza smalto Praticamente Niente Questi qua Li ho presi Di diversi colori C'è l'argento C'è il fucsia Cioè Vengono venduti Siamo tutti insieme E non si può scegliere il colore Quindi viene Vi arriva a casa Un pacco misto Il rosso Loro E poi ci sono questi C'è un viola Un giallo Olografico Si dice Olografico Questo qui Poi c'è anche Il viola Che vedete Ha dei riflessi Comunque Fucsia Rossi Blu Eccetera Poi c'è Il bianco E il verde Metallizzato Sono molto sottili Sono di spessore All'incirca Un millimetro Quindi veramente sottili I classici Diciamo I classici Adesivi Per le unghie Dovrebbero essere Costati un euro Anche questi Se non sbaglio Un altro pacchettino È questo E ci sono dentro Tutte queste palline Diciamo Con gli strass Vedete che questa Non è perfetta Quindi non sono perfette Però fanno molto effetto A me non me ne frega Se sono perfetti o meno Fanno molto effetto Poi Quando le mettete Nei gioielli Guardate queste qua Nere Con questi strass Che colore sono Viola Violacce Violacei Insomma Guardate che belle Questi qua Dorati No no Sono belle Anche se non sono Fatte perfettamente Essendo cose Costate Veramente poco Anche queste Dovrebbero essere Costate un euro E le ho preso Per creare Dei bijoux Un pochino più Eleganti E brillucicosi Come piacciono a me Come altro materiale creativo Ho preso questi bottoni Che sono a gufetti A civette Belli Anche questi Sono abbastanza grandi Vedete Grandi come il mio pollice Sono carini Sono di diversi colori Sono in legno Hanno i classici Due fori Molto molto belli Ci sono varie Colorazioni La fantasia È sempre quella Cambiano solo i colori Appunto E Questi qua Anche Sono costati Un euro E ce ne sono abbastanza Penso siano Non so se Sui 25 pezzi Adesso non so Rendermi conto Di quanti pezzi Siano Comunque Molto carini Anche questi Come i bottoni Ci sono arrivati anche Questi sacchettini In organza Che purtroppo Non vedete bene Perché la luce Va e viene come vuole Purtroppo Oggi medica E quindi Non c'è luce Non c'è luce Niente Sono queste bustine qui Allora vedete C'è questa qua Viola lilla C'è quella rosa C'è quella verde Quella gialla E rosa Ci sono tante Di queste qua Viola lilla E sono molto molto belle Sono Vedete Sono veramente Luccicose E mi piacciono Sono una misura Via di mezzo Così E niente Le utilizzerò Per quando Devo regolare I miei bijoux O quando li vendo E voglio confezionarli Insomma In qualcosa di carino Che si può anche Riutilizzare Perché mi raccomando Queste bustine qua Riutilizzatele sempre Perché sono molto Molto belle E poi Hanno anche un loro costo Se le buttate Cioè Non ha Non ha molto senso Si possono riutilizzare E questi sono i vari colori Quindi diciamo Che la maggioranza Mi è arrivato Viola Però insomma Però sono molto 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 belle Molto luminose Altro materiale creativo Queste farfalline Questi sono sempre Dei bottoni Sempre con i classici Due buchi Due fori E sono di varie colorazioni E motivi decorativi Vedete che cambiano Questa qui mi piace tantissimo Con i colori Diciamo sfumati Sono in legno Anche queste È un legno trattato Perché comunque È lucido dietro Quindi è stato verniciato Però sono anche queste Molte belle E anche queste Si possono utilizzare Per decorare qualcosa Che si vuole decorare Molto carine anche queste Sempre un euro Altri bottoni Sono questi qua Questi sono a forma di stella Hanno tantissimi Motivi decorativi Sono fatti benissimo Questi ve li consiglio Se li trovate Hanno appunto Sì Diversi motivi decorativi Diverse colorazioni Ovviamente Sono sempre in legno Con i classici Due fori E vedete Che belle Che sono Anche queste qua Con i fiorellini Questa qua rosa Non mi piace tanto Questa qui Mi piace tantissimo Anche questa Con i fiori qui Guardate anche questa Che carina Particolare Ma molto belle Molto belle Fatte bene Oltretutto Da quello che vedo Belle 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 Ok E quindi ci sono Anche queste stelline E sempre un euro Nello stesso pacchetto Mi era arrivato Anche questo Masking sticker set Questi qua sono Degli sticker Appunto Come c'è scritto qui Sono contenuti In questa Confezione Di cartoncino Guardate che carina Con lo spago Che si apre così Bella bella E all'interno Ci sono questi sticker Non sono tantissimi Ma sono carini E hanno tutti questi Motivi decorativi Vedete che Ci sono le lineette Per poterli staccare E Ci sono varie Fantasie Guardate che carini Che sono Molto molto belli Particolari E non si trovano Ovunque questi Quindi se andate Su Wish Andate a cercare Anche questi qua Trovate di tutto Su Wish Se volete Materiale creativo C'è veramente Di tutto C'è l'imbarazzo Della scelta State attenti Comunque sempre Ai prezzi Perché Se un venditore Vi vende una cosa Ad un euro Un altro Può vendervela A tre Quindi state ben attenti A quanto pagate Le cose Questi sono costati Un euro Se non sbaglio Anche questi qua Ok Veniamo alle ultime Cosine Che mi sono arrivate L'altro giorno Allora Ho ordinato Questo Questo set Di dieci Washi tape Si chiamano? Vabbè Deco tape Chiamiamoli così Scotch decorati E praticamente Qui c'è il problema Che non si può Scegliere la fantasia Cioè arriva Una fantasia casuale Cioè una fantasia Arriva un gruppo Di fantasie Casuale E quindi a me Sono capitate Queste Beh Questa qui Con la coccinella Delle quadrifoglie Poi c'è questa qui Molto primaverile Con questi Fiorellini Verdi Bianchi Ma sono Sono brutte Ecco Quelle che mi piace Mi piace tantissimo Questa qui E le altre Insomma Sì e no Non è che mi Facciano impazzire Ecco Però insomma Gli ho pagati Un euro Dieci pezzi Non c'è tanto nastro Vedete Però ho visto che Anche su quelli Del Lidl Non c'è veramente Tanto nastro Ecco qua La differenza Con quelli Del Lidl È questa Quindi Alla fine Conviene ancora Comprare questi qua Da un euro E niente Ultima cosa Che mi è arrivata L'altro giorno Adesso ve la faccio vedere Perché è contenuta In una bustona Io l'ho già aperta Già utilizzata E va benissimo Mi è arrivata La mini piastra Frise Io non sapevo Fosse di Hello Kitty Io non sono amante Di Hello Kitty Insomma è arrivata Di Hello Kitty E non ci sono istruzioni Dentro Ma è davvero Cioè è una cavolata Basta attaccarla La corrente E niente Questa piastra È fatta così Guardate che carina Ha il frise Piccolissimo Veramente piccolissimo Che crea volume È quello che volevo io Viene venduta Con questo adattatore Purtroppo è nero Cioè potevano metterlo rosa Come il resto È molto semplice Per farla funzionare Praticamente Basta Attaccarla alla corrente E fare così E spingere il pulsantino Su on E quindi Puoi lasciarla scaldare Ma veramente Si scalda in poco tempo E questa piastrina È piccolissima È veramente carina Guardate quanto è piccola Cioè La mia mano E la piastra Veramente Carina Carina E appunto L'ho usata già due volte E funziona Mi piace molto E questa è stata Pagata a 7 euro Quindi La cosa che è costata Di più Tra tutte queste È stata La piccola piastra Di Hello Kitty Diciamo che L'ho trovata in offerta Sono tutte più o meno Queste qua piccole Sono tutte più o meno Sui 7-8 euro Questo è tutto Il casino che mi è arrivato Io spero Vi sia piaciuto questo video Di avervi dato Degli spunti Di avervi fatto venire voglia Di acquistare da Wish Tanto io non ci guadagno niente Comunque Se volete Andate a vedere Su questo sito Ovviamente c'è di tutto Vi ringrazio Per aver guardato Questo video Scusatemi Se non mi sono fatta vedere Però veramente Sono distrutta Spero vi sia piaciuto Il contenuto Di questo video E Vi ricordo Di seguirmi Sui miei social Che trovate sotto Nell'info box A breve Aprirò Un giveaway Perché Siamo più Di 5.000 E quindi Voglio aprire Un giveaway E basta Detto questo Vi saluto Vi ringrazio Vi aspetto Al prossimo video Come sempre Grazie Ciao ciao Ciao